La Vendemmia Così mandò un altro servo. Ma i coloni bastonarono anche questo, lo oltraggiarono e rimandarono anche lui a mani vuote. Allora ne inviò un terzo. Ma i coloni ferirono anche questo e lo cacciarono via. Allora il padrone della vigna si disse, Che cosa devo fare? Manderò il mio figlio di letto. Lui lo rispetteranno, spero. Ma appena i coloni lo videro arrivare, si dissero, Costui è l'erede. Uccidiamolo e la sua eredità sarà nostra. E come andò a finire? Lo cacciarono dalla vigna e lo uccisero. Cosa farà dunque il padrone della vigna a quei coloni? Verrà, ucciderà quei coloni e affiderà la sua vigna ad altri. Che vuol dire il passo delle scritture? La stessa pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra più importante. Chiunque cadrà su questa pietra si sfracellerà. E colui sul quale essa cadrà rimarrà schiacciato. Sì. Sì.